Musica Bentrovati a questo nuovo appuntamento con le Smart News, le notizie dalla ski area San Martino di Castrozza, Passo Rolle. Musica Torna anche quest'anno Oltre lo Ski, il ricco programma settimanale di attività rivolte a tutti coloro che non sciano o che vogliono integrare la vacanza sugli sci con nuove esperienze all'insegna di natura, avventura e cultura. Numerose sono le proposte per scoprire le bellezze della montagna d'inverno, dalle escursioni con le ciaspole in compagnia delle guide alpine alle uscite di Winter Nordic Walking nei boschi del parco naturale Paneveggio Pale di San Martino, dalle visite guidate ai borghi di Primiero alla scoperta dei luoghi simbolo della grande guerra nella valle del Vanoi. Oltre lo Ski con le sue tante proposte è in grado di soddisfare le esigenze di grandi e di piccini. Sono infatti dedicati a loro gli spettacoli acrobatici, le fiaccolate dei maestri di sci, i divertenti show, il Kinder Hallm sull'Alpe Tognola e le tante aree attrezzate con giochi e spazi per giocare sulla neve. Da non perdere le gite in Troika, il kart su ghiaccio, gli aperitivi in moto slitta, le esercitazioni di soccorso con i cani da valanga e i corsi di sopravvivenza e sicurezza sulla neve. Numerosi anche gli appuntamenti con il gusto come gli stuzzicanti aperitivi di Happy Cheese, i laboratori di cucina e le cene in Malga. La Ski Area San Martino di Castrozza Passorolle in Trentino vi attende non solo per sciare ma con mille altre proposte perché la vostra vacanza sia indimenticabile. La Ski Area San Martino di Castrozza Passorio